balzo in avanti dei contagi appello dei sindaci a vaccinarsi rischio depotenziamento per il santa croce seria attacca la regione capolarato in un autolavaggio quattro arresti a fano vandalismi in viale trieste individuati responsabili una calorosissima buona serata a tutti i telespettatori di rossini news oggi mercoledì 14 luglio 2021 apriamo il nostro telegiornale con una notizia sulla sanità nella giornata di oggi si è infatti registrato un balzo in avanti dei contagi al covid 19 con 60 nuovi casi nella regione Marche la maggior parte dei contagi 18 arrivano dalla provincia di Ascoli Piceno segue Pesaro Urbino con 16 casi contagi dunque triplicati rispetto ai 21 di ieri con la percentuale di test positivi che sale dall'1,7 al 4% nello specifico sono stati effettuati 2.797 tamponi di cui 1.460 nel percorso nuove diagnosi stabile il dato sui ricoveri con 12 pazienti in degenza di cui 2 in terapia intensiva contagi che frenano grazie ai vaccini una ferma convinzione che ha portato 7 sindaci di altrettanti comuni a riunirsi oggi alla Casa della Salute di Montecchio per lanciare un appello unitario verso quei cittadini indecisi che non si sono ancora vaccinati vediamo il servizio ci troviamo alla Casa della Salute di Montecchio di Vallefoglia luogo che dal 7 luglio è diventato lab vaccinale di prossimità per questo territorio e oggi per il secondo mercoledì consecutivo ha somministrato vaccini appunto ai cittadini del territorio oggi però è stata una giornata ancora più particolare perché nella mattinata diversi sindaci dei territori circostanti si sono uniti in un unico grande appello alla vaccinazione un appello che arriva in un momento fuori dall'ordinario perché c'è la variante Delta che comunque resta una componente che costringe a mantenere l'attenzione altissima sui contagi contagi che si combattono solo con i vaccini e dunque oggi alla chiamata del sindaco di Vallefoglia Ucchielli hanno risposto presente anche i sindaci di Monte Labate, Monbaroccio, Monte Calvo in Foglia, Gabice Mare, Gradara e il vice sindaco di Tavuglia tutti uniti nell'invitare la cittadinanza a vaccinarsi ringrazio i sindaci di tutta quest'area, di questo comprensorio che ruotano attorno alla Casa della Salute di Montecchio di Vallefoglia per un invito a fare i vaccini oggi è il secondo mercoledì dalle 15 alle 19 si possono fare i vaccini quindi l'invito di tutti i sindaci è a vaccinarsi perché noi sconfiggeremo il Covid solo se è una larghissima fetta della popolazione, io dico tutta perché è un fatto che riguarda le persone e la loro salute, la loro vita quindi l'invito è a fare tutti i vaccini si possono fare a Pezzolo, si possono fare a Gradara perché a Bice Gradara e la parte alta di Tavuglia si possono fare qui anche per i comuni confinanti come diciamo Petriano, Monte Calvo, tutti quelli che vogliono fare i vaccini quindi l'invito e il ringraziamento va al personale medico e soprattutto alle persone che diciamo ruotano attorno ai sindaci, alle giunte, ai consigli comunali perché possono effettivamente vaccinarsi e affrontare l'autunno diciamo con la grandissima maggioranza della popolazione già vaccinata e a non subire colpi anche l'attività economica che come si è visto è ripresa a pieno ecco questo era il senso di questa visita alla casa della salute di Montecchio di Vallefoglio doveroso per ripartire, doveroso nel rispetto di chi ci è vicino, delle persone più fragili quindi Monbaroccio è presente come la valata di Pian del Bruscolo per questa iniziativa importante per questo percorso che riguarda la salute e il benessere del territorio se vogliamo ripartire ripartiamo da questi punti, da questi centri vaccinali altrimenti ogni chiacchiera è vana Ho aderito subito all'invito del senatore Palmirucchielli perché è una cosa importantissima che tutta la popolazione si sottoponga al vaccino è un fatto di scienza e di coscienza d'obbligo e doveroso per arrivare finalmente a riprendere la nostra vita normale che in questo periodo diciamo no, sia come attività economica che anche come vita sociale è stata un attimino preclusa alla popolazione e a tutti noi Noi a Montalabate abbiamo subito delle grosse perdite purtroppo siamo un comune che è stato molto colpito dal Covid-19 per cui invito sentitamente tutti i cittadini a vaccinarsi Capisco le opinioni di tutti però in questo momento storico dobbiamo mettere da parte e remare tutti dalla stessa parte La sanità provinciale è al centro di un nuovo riassetto ma il sindaco di Fano Massimo Seri non gradisce la strada intrapresa dalla regione Marche e reclama più ascolto e più equilibrio fra le strutture di Pesaro e Fano Dall'ospedale unico all'unico ospedale Al sindaco di Fano Massimo Seri non piace per usare un eufemismo il possibile scenario della sanità provinciale Secondo il primo cittadino della città della fortuna la giunta regionale starebbe andando in una direzione che metterebbe Fano in una posizione troppo marginale Io sono fortemente preoccupato perché in questi anni ho visto tanti paladini per la nostra città abbiamo oggi un nuovo contesto politico regionale che ha vinto le elezioni e è giusto che si assuma le sue responsabilità La bandiera è stata quella della difesa del riassetto sanitario e i referenti in questo territorio la difesa della sanità in questi territori Oggi vedo una situazione fortemente preoccupata e rischiamo di andare a dei compromessi a ribasso di scendere ad un livello sanitario mai così in basso Io non ho mai affrontato in modo ideologico le questioni della sanità Quando uno fa il sindaco deve cercare le soluzioni migliori per la propria città per il proprio territorio L'ho fatto con la precedente amministrazione facendo delle battaglie lo ricordate per il sito più idoneo che doveva essere Chiaruccia per alcune cose che non condividevo sono arrivato ad una mediazione che era quella del protocollo che vedeva la realizzazione di un nuovo ospedale provinciale ma la presenza del Santa Croce a Fano è una clinica convenzionata a Fano Per Seri si rischierebbe soprattutto una disparità tra le strutture di Pesaro e Fano per quest'ultima in prospettiva una vera e propria caporetto Oggi vedo un nuovo riassetto un retrocedere dalla nuova struttura con due ospedali di primo livello Pesaro e Fano è una scelta però anche su questo deve essere equilibrata quindi mi accorgo che si pensa ad un nuovo ospedale San Salvatore di 400 posti di primo livello e un vecchio ospedale, quello del Santa Croce senza nessun investimento con 200 posti, quelli che rimangono dopo aver destinato quelli su Pesaro allora non mi tornano i conti ci deve essere un equilibrio se sono ospedali di primo livello e rischiamo di compromettere anche tutto un percorso fatto di questi 15-20 anni di integrazione fra le due strutture con una proposta a ribasso che non è adeguata a quelle che sono le esigenze della città di Fano e del territorio Ma indurre Seri ad alzare i toni sarebbe anche un certo deficit comunicativo da parte dei referenti regionali Avevo chiesto in più occasioni incontro con il Presidente non è avvenuto, vedo che va in giro per la provincia è andato giustamente a Pesaro, è andato a Sassocorvara, a Montefeltro non è venuto a Fano voglio ricordare che Fano è ancora nelle Marche è la terza città per abitanti quindi ha un ruolo importante però ho qualche sospetto mentre dall'altra parte è andata a raccontare cosa andavano a fare e qui deve venire a raccontare cosa non si fa se si va ad una nuova riorganizzazione ci deve essere la giusta attenzione per questo territorio con investimenti, con nuove strutture perché sapete qual è il rischio? non voglio essere Cassandra ma se noi andiamo a realizzare una nuova struttura di 400 posti e manteniamo una vecchia struttura di 200 posti solo questo di tempo significa declassare la sanità di questo territorio e significa un domani andare al superamento e fare quello che magari hanno combattuto una nuova struttura che sarà ancora più a nord io di questo finché sarò sindaco la combatterò quindi questa mia presa posizione è proprio per riequilibrare e giustamente dare le giuste risposte che devono avere questi territori lasciatemi dire una battuta se fino a ieri parlevamo di un ospedale unico provinciale oggi parliamo di un unico ospedale quello del San Salvatore e non mi sta bene la cosa che mi dispiace è che Fano nel contesto politico regionale non ha mai avuto tanto potere metà della giunta è espressione di questo territorio di cui due a Fano e penso che non si possono accontentare di un trofeo così basso per questo territorio alla conferenza del sindaco di Fano Massimo Seri non si è fatta attendere la replica del vicepresidente della regione Marche Mirko Carloni e del consigliere regionale Luca Serfilippi che attraverso un comunicato congiunto ribadiscono come l'ospedale Santa Croce non si tocca la giunta regionale e l'assessore Filippo Saltamartini stanno lavorando per stralciare dal piano socio-sanitario la realizzazione dell'ospedale unico da 600 posti che, previsto dal PD e da Seri a Muraglia di Pesaro avrebbe comportato la chiusura successiva del Santa Croce Surreale che il primo cittadino al posto di applaudire a questa nuova programmazione preferisca buttarla in cacciara Seri e Ricci che avevano proposto di chiudere l'ospedale fanese parlano di accordi a ribasso proprio mentre stiamo lavorando per salvaguardarlo il Santa Croce manterrà almeno 200 posti letto e continuerà a dare servizi a tutta la vallata secondo una riorganizzazione ospedaliera e territoriale che verrà condivisa con i territori ed ora passiamo dalla sanità alla cronaca perché si è conclusa oggi con quattro arresti una vasta operazione a contrasto del caporalato che ha interessato un'impresa di autolavaggio a Bellocchi di Fano vediamo i dettagli dell'operazione nel servizio di Daniele Sacchi 12 ore di lavoro al giorno con una paga di 3 euro all'ora e costretti a sborsare pure 150 euro d'affitto per alloggiare in strutture fattiscenti senza riscaldamento e servizi igienici adeguati è stato questo lo scenario di caporalato che i carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia coadiuvati dai colleghi dei comandi di Peso Robino, Latina e Ravenna hanno scoperto in una impresa di autolavaggio di via Einstein a Bellocchi di Fano un autolavaggio gestito da cittadini egiziani che sfruttavano altri connazionali dopo un anno di indagini, videoriprese e intercettazioni nella notte appena trascorsa sono scattate le manette quattro le misure cautelari una in carcere e tre ai domiciliari il nucleo carabinieri tutela del lavoro di Pesaro ha svolto questa indagine su un fenomeno di caporalato in realtà siamo riusciti a condurre un'indagine che ci ha consentito di trarre in arresto quattro persone quattro cittadini egiziani che sfruttavano dei connazionali all'interno di un autolavaggio come mano d'opera sottopagandoli in realtà alla metà di quanto dovuto ospitandoli in alloggi degradati ed ostili facendo pagare loro per questi alloggi anche 150 euro al mese e impiegandoli per 12 ore al giorno a fronte di una paga ridotta e assolutamente inadeguata per la prestazione lavorativa che veniva fornita L'operazione denominata Car Wash ed effettuata dai carabinieri in sinergia con l'ispettorato del lavoro ha portato a rilevare una florida attività dell'autolavaggio di Bellocchi che offriva pulizie complete dei veicoli a circa 10 euro contro i 25,30 stimati nelle imprese regolari prezzi accattivanti consentiti grazie allo sfruttamento dei 28 lavoratori egiziani e albanesi alternatesi alle dipendenze dell'autolavaggio di cui 18 figuravano in nero si sono così stimati 387 mila euro di stipendi non corrisposti e oltre 150 mila euro di contributi evasi C'è stata tutta una parte amministrativa che ha consentito di verificare come questi proprietari di questo autolavaggio non avessero versato contributi per circa 150 mila euro contributi che dovevano essere appunto versati in favore dei cittadini egiziani che venivano sfruttati per il loro lavoro che avevano effettuato Un'attività criminale da veri aguzzini che non prevedeva ferie, giorni di riposo permessi di malattia, contributi previdenziali e con l'aggravante in tempo di pandemia di non fornire mascherine e dispositivi di protezione individuale senza contare che i datori di lavoro sfruttavano le condizioni di vulnerabilità dei connazionali egiziani che necessitavano di permesso di soggiorno L'attività è stata un'attività molto importante che dà un riscontro di come l'arma dei carabinieri e in particolare la specialità della tutela del lavoro sempre supportata dall'arma territoriale possa condurre queste attività in contrasto di questo fenomeno del caporalato che come abbiamo dimostrato non è un fenomeno che si identifica come generalmente conosciuto con lo sfruttamento del lavoro in agricoltura ma anche in altri settori quindi è un approccio strutturale che viene fatto perché andiamo a tutelare diversi beni giuridici quelli dei diritti della persona diritti dei lavoratori ma anche i diritti della libera concorrenza A Pesaro la vittoria dell'europeo da parte della nazionale di Roberto Mancini si è lasciata alle spalle una notte di festa scatenata che in Viale Trieste è deragliata anche in qualche episodio di teppismo e vandalismo teppisti che sono già stati individuati e per i quali scatterà una denuncia e una richiesta di risarcimento danni Sacro Santo festeggiare sbagliatissimo che la vittoria dell'europeo della nazionale italiana diventi il pretesto per atti di vandalismo e teppismo azioni moleste che si sono verificate nella zona compresa fra Viale Fiume e Viale Trieste dove nella notte fra domenica e lunedì alcuni giovani pesaresi si sono accaniti su cestini dell'immondizia fioriere, totem di segnaletica stradale e arredi urbani una bravata vandalica che però non resterà impunita perché all'epoca degli smartphone non manca chi immortala l'atto di teppismo chi lo posta sui social e il risultato della somma è che il video si è arrivato in fretta nelle stanze della polizia locale dal comando della polizia municipale hanno già lasciato intendere come siano pronte tre denunce a piede libero per altrettanti giovani identificati attraverso i video il reato contestato è quello di danneggiamenti gravi e a questi seguirà una richiesta di risarcimento danni va precisato che si è trattato di pochissimi episodi a fronte di centinaia di pesaresi che si sono riversati sul lungomare festeggiando la vittoria azzurra mantenendo le proprie gioie nei confini dei comportamenti civili nella giunta comunale di ieri Pesaro ha ufficializzato la sua candidatura a capitale della cultura italiana 2024 un percorso che si propone di interagire in un lavoro di squadra che coinvolgerà le vicine Fano e Urbino oltre ad altri comuni della provincia che avranno tempo per manifestare la propria volontà a partecipare fino al prossimo 20 luglio in ottobre andranno inoltrati i contenuti della candidatura per conoscerne poi l'esito solo a fine 2021 Biologico nelle Marche quale futuro? E' questo il titolo del confronto dibattito che si terrà domani al centro sociale di Morciola di Vallefoglia con i consiglieri regionali Micaela Vitri Andrea Biancani e l'assessore regionale alla cultura Mirko Carloni appuntamento dunque aperto alla cittadinanza giovedì 15 luglio alle 19 Dal 16 al 25 luglio Fanano di Gradara ospiterà Circo Panico con lo spettacolo Distanti un'attrazione di circo contemporaneo comico e acrobatico riconosciuta a livello nazionale pronta a stupire e ad arricchire l'offerta turistica e di intrattenimento del comune di Gradara Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 Riccardo nostro telespettatore ci ha inviato queste immagini d'aggiornamento su via 24 Maggio che da settimane è cantierizzata con la sottrazione forzata di diversi posti auto come se non bastasse la pioggia di questa notte ha creato una buca piscina sulla quale una squadra di operai di una ditta di manutenzioni stradali è intervenuta con un'asfaltatura attraverso questa segnalazione il nostro telespettatore si augura che questo rattoppo sia un primo passo verso un intervento strutturale più radicale su questo tratto stradale quest'altra foto inviatoci da un altro telespettatore vuole invece enfatizzare come spesso sulla strada Montelabattese si stia verificando questa pericolosa tendenza di ciclisti che si piazzano dietro i camion per prendere la scia aerodinamica una pratica frequente denuncia il telespettatore in questione ma molto pericolosa a maggior ragione in una Montelabattese già teatro di tanti incidenti continua la ricca rassegna di eventi culturali e di intrattenimento della stagione estiva dell'arena BCC di Fano venerdì alle 21.30 risate assicurate con lo spettacolo in dialetto senigallese La Panchina uno spettacolo che ci viene illustrato dai componenti della compagnia dialettale I Mazzamurei intervistati da Antonio Astuti e quest'anno è per la seconda volta che veniamo a Fano avendo avuto un buon successo l'ultima volta con il dialetto che comunque chi verrà ad ascoltarci non potrà pretendere il dialetto stretto perché non si può pretendere a Fano di essere capito però sarà una bella serata Quindi davvero tante differenze fra il dialetto fanese e quello di Senigallia? Sì in linea di massima c'è qualche differenza però io penso che si capiscono bene anche a Fano e poi ecco come diceva la collega qui cercheranno di italianizzare un po' il dialetto La comedia di cosa si occuperà? Lo possiamo dire? La spoileriamo? Sì Allora la comedia naturalmente in dialetto Senigaya fatta dai Mazzamurei che poi vi spiegheremo cosa sono i Mazzamurei verte sui temi attuali principalmente il Covid è vero che non abbiamo una vera e propria commedia però sono degli sketch su dei personaggi senigalliesi seduti in una panchina che si raccontano tutto tutto dal piccione che casca per terra borto al mare all'acqua alla gente d'inverno addirittura abbiamo uno sketch sul famoso Summer Jamboree che portiamo avanti da vent'anni quindi sarà una cosa divertente quest'anno abbiamo assunto un maestro chitarrista Andrea Cialidioni che sarà probabilmente anche conosciuto perché fa anche le serate qui in zona con delle musiche originali su testo anche del qui presente Luigi Schiaroli che riguarda ve lo dico sia il noto Covid ma il senigalliese Silvestri che è in America che fa facendo il virologo e anche il signor Burioni sappiatelo che comunque prenderemo in giro qualcuno forse anche qualche politico locale ma questo è tutto da vedere dopo un anno di stop torna la tipica festa dell'estate di Novilara che per la sua nona edizione si allarga dal gusto delle tagliatelle ad un'allargata platea di cantine e degustazioni vinicole l'appuntamento è per venerdì 16 e sabato 17 luglio la nonna edizione a cui arriviamo quest'anno è un'edizione speciale noi con l'associazione culturale della stela arriviamo felicemente nel 2021 dopo un anno di pausa dal Covid ma siamo riusciti a organizzare quest'anno venerdì 16 e sabato 17 luglio questo evento a Novilara siamo insieme a altre realtà altre associazioni e la cosa bella è che diciamo noi abbiamo sempre curato l'aspetto importante del panorama gastronomico locale invece quest'anno aumentiamo diciamo dando anche più attenzione al vino quindi diventa proprio enogastronomico saranno presenti 24 cantine in degustazione lungo la cinta murario del borgo di Novilara molte poi da fuori regione quindi invitiamo chi sia amante appassionato e curioso di venire ci sarà la possibilità di mangiare presso i ristoranti su prenotazione oppure avremo un piccolo stand da sporto per le nostre mitiche tagliatelle o una piadina il tutto ovviamente sarà secondo le normative Covid vigenti e avremo anche un'area di spettacoli all'interno del borgo dove c'è un piccolo anfiteatro anche lì con posti limitati però per allegrare un po' la serata dal venerdì con il San Costanzo Show il sabato invece con una premiazione di un concorso letterario Concludiamo con lo sport perché continua a sprombattuto il calciomercato della Vispesaro con annunci quotidiani di nuovi acquisti da parte della società Biancorossa oggi è stato ufficializzato l'ingaggio con un contratto biennale del difensore 24enne Stefano Pellizzari che nelle ultime tre stagioni è stato avversario della Vis con le maglie del Legnago e del Ravenna siamo giunti alla fine dell'edizione di Rossini News ricordiamo gli appuntamenti di questa sera sul nostro cranale 633 lo speciale dedicato ai 40 anni di attività di Midor con la presentazione dello spettacolo svoltosi sabato 10 luglio presso la scalinata Don Menzoni di Fermignano con Valerio Liboni dei Nuovi Angeli ricordo come sempre di mettere mi piace alla pagina facebook di Rossini TV al profilo instagram al canale youtube e soprattutto scaricate l'app di Rossini TV per essere sempre vicino sempre di più alla nostra emittente non mi resta che salutarvi dandovi appuntamento a domani mattina alle ore 7.20 con la prima edizione dell'informazione su Rossini TV con Buongiorno Rossini a domani mattina a domani mattina di Rossini TV